Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della vanilla qua ci troviamo nella costruzione che abbiamo fatto la scorsa volta sto sempre utilizzando Edwitt come programma di registrazione perchè con OBS lag sempre troppo comunque penso che questo qua sarà l'ultimo video che registrerò con Edwitt e cercare un altro programma di registrazione dove ci posso pure fare delle live però adesso facciamo partire la sigla e ci vediamo tra poco ok eccoci e praticamente adesso andremo a fare praticamente finiremo il punto di questo progetto della spiaggia e qua tutto cosa andremo a fare? qua mi sono già preparato dei materiali che sono qua questi tappeti questo, questo ci servirà questo e questo e poi ci do degli sombrick che ho messo a cuocere però vabbè ci serviranno dopo piuttosto vabbè là c'è metteremo poi una crafting table noi usiamo vabbè non usiamo una barca perchè abbiamo passagerato allora praticamente cosa andremo a fare in questo episodio? praticamente noi davanti a faro abbiamo un'altra isola sub praticamente desolata che la vorrei utilizzare per fare diciamo una spiaggia con dei ombrelli con un bar e tutto questo episodio diciamo si dividereà in due parti come nello scorso dove faremo il appunto il il negozio di abiti cioè il il la spiaggia con i il bar e faremo poi la spiaggia con i ombrelloni e tutto qua c'è il faro che mi avete scritto sotto i commenti di farlo un po' più alto l'ho visto, l'ho letto io ho pure risposto solo che quando avrò tempo e voglia non lo finirò ok mentre di quando andrò dritto abbastanza vicino io dovrebbe essere questa spiaggia eccola qua ok che prima di tutto andrò a levare i cactus possono essere pure utili ok forse ho fatto una cosa che non devo fare cioè fare tutto qua per terra ah e poi comunque ho 41 livelli perché alla fine dell'episodio andremo a dare i nomi alla spada e alla spada all'ascia all'arco al piccone alla pala e tra il nonno la pesca se mi coloro là in futuro perché forse non mi bastano i livelli forse questo episodio lascia no però c'è tipo la spada che costa 34 livelli farsi la spada abbastanza una follia però niente allora occupiamoci e andiamo a prendere subito questo e questo e giro qua molti di questi non è che me li sono fatti solo che quando ho modificato il mulino era fatto tutto di questi due materiali allora niente andandolo a distruggere il tetto ci siamo ritrovati con tutti questi materiali guarda facciamo così facciamo uno qua e qua leviamo ho levato quello sbagliato ok ottimo allora adesso vi faccio e siccome non voglio che duri tanto non è che vi farò un primo ombrellone di prova per farvi vedere se vi piace questo qua sarebbe il lettino e poi vabbè dobbiamo farci una crafting table perché mi sono dimenticato di fare le fence però non fa niente ok ecco prendiamo la crafting table piazziamola per adesso qua e andiamo a fare appunto queste fence poi ok dobbiamo fare un bel po' di cose in questo episodio allora a questo punto tramutiamolo tutto e vediamo se facciamo prima facendo così ecco vabbè noi ci mettiamo qua questi e poi questi qui di lato allora prima di niente adesso andiamo a fare tante fence tipo dobbiamo farle 6 1 2 3 4 vabbè per adesso sono questi poi lo andrò a farne di più ok prima di niente adesso vabbè vi farò una prova andiamo qua ci alziamo di 3 oppure di 4 forse sarebbe si no vabbè 3 va bene poi andiamo a prendere i mezzi blocchi li andiamo a mettere qua no l'ho droppato per sbaglio andiamo a mettere qua ai lati vabbè poi lo modifico io ma perché sbaglio il clicco più invece più Q invece che andare V va bene dopo aver fatto questa cosa senza aver fatto errori noi prendiamo la terra saliamo e andiamo a mettere qua questi qua e poi al centro andiamo a mettere il tappeto bianco se lo trovo ecco e alla fine questo qua è il risultato del cosa adesso lo migliorerò facciamo un piccolo taglio vado a dormire e faccio altri umbrilloni così allora ci vediamo tra poco ok ragazzi qua ho completato ho fatto tutti diciamo gli estrai con gli ombrelloni vabbè qua c'è questa cosa però non notiamola e vabbè adesso passeremo al progetto successivo però intanto che tanto ve lo ritorno a casa perché mi sono scordato di prendere gli stone bricks per fare il appunto il bar che sarà qui dietro col ho messo la graffin table che poi sposteremo e andiamo a dare appunto i nomi ai nostri oggetti tranne all'ascia perché mi sono scordato all'ascia semmai se abbiamo qua altro tempo dopo penso a dare il nome pure a loro comunque per i nomi della spada e i nomi diciamo per tutti gli oggetti ho deciso di usare dei nomi latini che rappresentano le caratteristiche dei nostri oggetti ad esempio voglio dare il nome della spada che sarebbe fuoco in latino poiché il primo incantamento della spada fu aspetto di fuoco allora diciamo che è una cosa molto buona anche aspetto di fuoco buona che rappresenta il fuoco allora ecco perché sarebbe ignis me ne sono scritte tutte qua di lato qua troppo ci mette un po' per caricare provo questo qua il computer a vedere ok allora invece ad esempio al piccone sarebbe roccia che sarebbe petram oppure oppure per l'arco ho messo frecce che sarebbe appunto aspetto che ce l'ho ce l'ho scritte saggitta saggitta che appunto poiché ha infinita il nostro arco poi vabbè c'è pure aspetto del fuoco però che non posso metterli appunto fuoco come il nome però c'è un grande problema è che la spada costa cioè adesso andiamo a mettere il nome alla spada guardate quanto costa mettere qua cambiamo il nome 32 livelli infatti io sono stato un botto alla formanna e alla fan di pesca per fare tutti questi livelli comunque diamo subito il nome alla spada e il suo nome sarà Inns cancellare Inns ok questa è la nostra nuova spada Inns scrivo tutto il maiuscolo perché è così vabbè mi sono dimenticato l'ascia però facciamoci caso invece la palla dovrebbe costare un livello che ho messo sabbia perché terra rimane terri latino allora arenae arenae eccola infatti costa solo un livello qua poi invece il piccone dovrebbe costare due livelli tipo se non mi sbaglio che io metto roccia petram ah no quattro livelli vabbè petram petram sebbe pietra eccolo e poi per finire l'arco vediamo quanti livelli costa spero non tanti quattro ottoni e sagitta no con due ok e abbiamo dato i nomi pure ai nostri archi e ai nostri oggetti tranne l'ascia che sarà al futuro va bene allora ottimo adesso farò un altro piccolo taglio vado a prendere gli sombricks e comunque sarà un taglio lungo perché qua c'è già della roccia c'è 54 dovremmo avere una stack in totale qua altri 54 però comunque ci vediamo tra poco ok ragazzi eccoci qua ho appunto preso con gli sombricks qua abbiamo tutti ah va bene un pezzo di un blocco a casa però utilizziamolo qua dobbiamo allargarci di 4 e poi qua dobbiamo allargarci di 7 a quanto siamo 1 2 3 4 5 6 e 7 ok poi qua ci andiamo a allargare così adesso dobbiamo salire di 2 non sono salite di 2 cioè adesso vi spiego un attimo cosa andremo a fare prima niente questo qua sarà un bar perché ovviamente in ogni spiaggia c'è pure un bar semmai in futuro metteremo pure un villager semmai quando faremo la farm di rotaie quando troveremo di slime potremmo fare potremmo mettere un villager sarà un edificio molto semplice infatti ci sarà niente di che mai pure identica non mi dire che sta per fare notte allora vediamo il nostro piccone ho pure depositato dei materiali per andiamo qua a finire almeno il tetto troppo mi ti piacciono pure i blocchi dove non voglio però va bene ok qua abbiamo finito il tetto poi andremo pure un po' a illuminare però allora facciamo un altro piccolo taglio e ritorno e a casa dormo prendo altri materiali e finiamo ok allora andiamo qua a finire mettendo qua dei mattoni c'è qua dei recinti di pietra sbagliare ok invece qua poi ci andiamo a mettere una botola come diciamo portone per l'ingresso poi entriamo qua e so qua cosa metteremo metteremo appunto il frigo che penso che già voi lo conosciate perché comunque si fa così si mette qui dietro mettiamo questo e poi mettiamo il bottone qua cliccando qua si apre e ti dà la roba diciamo questo frigo potrebbe essere carino mentre poi di qua dobbiamo andare a mettere qua questi oggetti che possono essere tipo delle cose dove uno c'è appoggiare le cose sopra e poi dove appoggiare degli oggetti semmai in futuro ci possiamo mettere delle casse oppure degli frame per decolare però allora siccome non voglio che questo video duri troppo questo qua è un semplicissimo bar non è niente di che poi il pavimento possiamo lasciarlo così tanto ci cambia niente allora ragazzi possiamo pure concludere qua questo video siamo qua nella spiaggia diciamo che questo mini progetto per le state cioè diciamo per diciamo questo mini progetto che pall diciamo dell'estate perché c'è la spiaggia un bar abbiamo fatto un par abbiamo fatto un porto e può concludere qua infatti vi invito a lasciare un mi piace cerchiamo di arrivare a 5 like entro nel prossimo episodio che uscirà la settimana prossima non so se è venerdì oppure un altro giorno però comunque iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti infatti abbiamo appena raggiunto i 50 iscritti che spero di arrivare ancora a 60 per avvicinarci sempre di più al 100 allora comunque per ciò scomentitri è tutto ci vediamo nel prossimo episodio ciao ciao